Ingegnere Gioia, lei è in forza al comune di Sciacca soltanto da pochi giorni ed opera in un settore, l'ufficio tecnico, che presenta le principali criticità che riguardano l'organico. Anzitutto che situazione ha trovato e quanto è difficile operare in condizioni di questo tipo? Sì, è da poco che sono arrivato qui a Sciacca e tra altre cose virtualmente da oggi prendo le funzioni nella nuova rimodulazione del lente con il riassetto dei settori tecnici. Diciamo che ancora non ho avuto modo di conoscere del tutto gli uffici con gli operatori un po' per il discorso dello smart working, per le mille situazioni che sono create, le riunioni e quant'altro, che anche in termini conoscitivi hanno assolto del tempo. Comunque ho avuto modo già di percepire, di capire che c'è tanta attività in essere, c'è stata tanta progettualità e comunque la città chiede risposte che vedremo di poter dare, dare seguito. Lei di cosa ha iniziato ad occuparsi in questo momento e se dal primo approccio che ha avuto c'è qualche risultato sul piano tecnico che si può portare a termine in tempi brevi? Devo dire che le prime situazioni che mi sono state prospettate sono state sicuramente una ricognizione generale del cimitero per una serie di progetti che sono in itinere, che sto trovando in itinere sul cimitero comunale, per quanto concerne le reti idriche, per l'avvio di alcune attività in merito al potenziamento della rete idrica di Sciacca e non ultimo una situazione che si è venuta a creare al porto per la chiusura dell'impianto di distribuzione di carburante, di un impianto di carburante che si sta cercando di qualiuvare con le attività, con le aggiungenti acque al fine di ripristinare l'ordinaria attività dello stesso. Partiamo dal cimitero, una situazione che si trascina da tempo con la disponibilità da parte di tanta gente ad esempio ad avere un loculo, sappiamo cosa accade ormai da tempo con tumulazioni che vengono rinviate con la necessità di dover intervenire sui loculi di proprietà delle confraternite. Questo è un esempio di come c'è il privato pronto ad intervenire ed il pubblico che in questi anni, non soltanto negli ultimi anni ma anche in precedenza, non è riuscito a dare le risposte adeguate. Ecco, come si sta muovendo a questo proposito? Devo dire che in merito al discorso del cimitero, per quanto riguarda la possibilità dell'edificazione da parte di privati, di confraternite, comunque di associazioni, di sepolture collettive, devo dire che ho trovato già nell'ente espletate le procedure di gare e di assegnazione delle aree e si sta venendo di procedere celermente alla consegna, alla contrattualizzazione di queste aree per poter dare la possibilità di presentare progetti. Tra altre cose devo dire che ho trovato già in fase avanzata di istruttoria anche attività di project financing sul cimitero, oltre a delle sinergie dell'ente per la realizzazione di loculi comunali. Ecco, l'insieme un po' di tutte queste attività, di tutta la sinergia di questi aspetti ritengo che possa realmente dare la risposta sulla mancanza dei loculi al cimitero di Sciacca. Nel passato si era parlato tra loculi e cappelle ed altri interventi possibili di circa 500 sepolture che sarebbero state sbloccate nell'ambito di questo piano. I dati sono sempre questi a suo parere? Allora, in merito ai dati specifici, mi riservo di finire di approfondire un po' la tematica. Comunque vi devo dire che negli uffici ho trovato una grossa progettualità sia in termini di richiesta del privato che nei termini di fattibilità da parte proprio dell'ente comunale, del pubblico. È un momento difficile questo a suo parere per il reperimento di finanziamenti che poi è la base su cui i comuni puntano per la realizzazione di opera o ci sono dei settori nei quali si può intervenire e quindi degli interventi che potranno essere realizzati a breve. È chiaro che a oggi posso solo dare una risposta in termini generali su questa domanda. Voglio dire che oggi i clienti pubblici in generale, prescindendo dalla situazione specifica di Sciacca, diciamo che pochi o se non nessuno gode di particolari situazioni o di floridità dal punto di vista finanziario. Per quanto riguarda la ricerca di contributi, quindi di finanziamenti su dalla parte della regione, dalla parte della comunità europea e quant'altro. Questo chiaramente è un'attività indispensabile per l'ente, ma il prosupposto fondamentale è quello di riuscire a organizzare una struttura tale da poter mettere a sistema e a regime questa richiesta di contributi. Ora, per quanto riguarda Sciacca, e torno a dire che virtualmente ad oggi ho preso realmente le funzioni per quanto riguarda l'area dei lavori pubblici, ho avuto modo già di interloquire nei giorni passati informalmente con i colleghi e voglio dire, io sono convinto che realmente Sciacca può fare. Secondo lei, diciamo, questo rilancio in che termini si può prevedere? Anche lì, sulla tempistica. La tempistica oggi mi è difficile dettarla. Sicuramente gli uffici, anche dalle notizie assunte, so che scotta parecchio la carenza di personale. Questo è un problema atavico degli enti. Sciacca in particolare, ho saputo che negli ultimi anni, vuoi un po' per quota 110 o per altre situazioni, ha avuto un forte fuoriuscita di personale, ma soprattutto nel settore tecnico e personale che sicuramente con l'esperienza che ha maturato negli anni, oggi sicuramente avrebbe fatto comodo avere.